Inizialmente lo conosceremo come Carlo Vivaldi, perché lui è uno studente di Mantua, ebreo ed anarchico, totalmente contro la violenza. Infatti inizialmente non vuole prendere parte in nessun modo al conflitto, perché è contro il potere, appunto contro la violenza, eccetera. Solo che riesce a scampare la deportazione della sua famiglia, che ha sterminato la sua famiglia. E questa serie di eventi porteranno in lui un conflitto intero e un cambiamento. Nel capannone di Pietralata degli Sfollati conoscerà Ida e i suoi figli, diventerà molto amico di Nino, che è il figlio grande di Ida, perché diventeranno compagni per la lotta partigiana. Conoscerà anche Useppe, anche dopo la guerra si rincontreranno e avranno sempre un bellissimo rapporto, perché Davide, come un po' tutti i personaggi del romanzo, è innamorato del modo in cui Useppe vede il mondo. Della sua gioia, della sua bontà, appunto, e della sua purezza. Guarda, mi è piaciuto moltissimo la sua profondità e il suo provare a non tradire mai i suoi ideali, anche quando appunto lo farà. Il modo in cui lui prova a reagire, sentendosi appunto anche soffrendo moltissimo per questa cosa. Quindi è un personaggio bellissimo, un personaggio che mi ha emozionato tantissimo ed è stato anche difficile. Ovviamente è molto diverso dai ragazzi della mia età di quest'epoca, quindi entrarci dentro è stato veramente come rivivere il romanzo ed è stata un'esperienza bellissima. Mi sono portato, beh, allora credo che in generale tutto questo romanzo e anche questo personaggio, come un po' tutti i personaggi del libro, sono impotenti e vittime della storia di qualcosa di più grande di loro, che non possono provare ma perlomeno insomma non riescono a cambiare tanto. Credo che sia importante mantenere viva la memoria e ricordare sempre quello che è successo. Speriamo cose belle, no, guarda è stato un anno bellissimo, ho fatto un sacco di progetti di cui sono molto fiero e non vedo l'ora di farli vedere a tutti, insomma. Uno tra questi è sicuramente la storia e niente, è stato un bell'anno, speriamo di continuare così.